Festival della comunicazione 2021, sempre nella cornice di Camogli, stasera si inaugura ufficialmente alle 17 con la cerimonia a cui parteciperà Massimo Cacciari e poi tantissimi altri ospiti che si susseguiranno sul palco Camoglini, tra cui Valerio Lundini stasera, Pier Giorgio Di Freddi, ma anche D'Aria Bignardi, Costanza Di Quattro e moltissimi altri. Una terrazza sul mare con tanta cultura e soprattutto tanta gente che accorre numerosa non solo da Camogli ma anche da altre parti della regione e perché no anche di Italia. Per cui vi aspettiamo qui, tutte le norme anti-Covid sono rispettate per cui ogni spettacolo va prenotato anticipatamente perché l'ingresso è contingentato e ricordatevi la mascherina.